...e sono felice a farmi da mangiare e da dormire, il tutto con moderazione, senza esagerare, senza fare nulla, perché se sveglio la mia coscienza e appena me vado a cercare, sono cazzo. Ma han detto che ognuno di noi è quel che dà, ok, vuol dire che avanzo qualcosa senza sapere cos'è, ma so che è lì fuori, da qualche parte, andrò a prendere una prima o poi. Ma han detto che le botte di quello servono, sì, ma anche le botte di pasta vanno prese incassate, perché a farti crescere, ragazzo, sono quelle che ricevi, non quelle che dai, e i lividi vanno colorati, per non dimenticarli mai. E bisogna allenarsi a cadere, perché solo così ci si potrà rialzare, e mi raccomando, senza farsi aiutare, perché è da soli che ce la dobbiamo fare, perché mica gli altri ti stanno ad aspettare. E resteremo immobili con le rocce sotto la tempesta, ma col sole in fronte farremo sempre più lontano.